Io da oggi passo ufficialmente e definitivamente all'opposizione. Non si può dire certo che sia un fulmine a cel sereno il divorzio fra Marianna Scoccia eletta in consiglio regionale nelle fila dell'Udc e il centrodestra capitanato da Marco Marsilio. Già perché di sereno nel rapporto tra partiti ed esponenti della maggioranza e il sindaco di Prezza c'è stato davvero ben poco. Scoccia ricorda di essere rimasta nella maggioranza fino ad oggi in ossequio all'accordo politico nazionale che ha dato il là alla sua candidatura. Ma alla fine gli attacchi che l'esponente centrista denuncia di aver ricevuto fin dalla campagna elettorale hanno pesato a tal punto da convincerla a lasciare la maggioranza di centrodestra. In più occasioni sia dal presidente Marsilio che dall'onorevole Luigi Deramo attacchi violenti addirittura hanno dichiarato a più riprese che l'Udc era fuori dalla coalizione tanto da togliere il simbolo in campagna elettorale che l'Udc qualora fosse stato eletto qualcuno nelle liste dell'Udc sarebbe stato fuori dalla maggioranza. Io nonostante tutto ho aspettato in questo anno e mezzo pensando che le cose potessero cambiare ma nei fatti non è stato così. Marianna Scoccia non lesina critiche al presidente Marsilio e soprattutto all'assessore alla sanità Nicoletta Veri dalla quale soprattutto nella fase 1 dell'emergenza Covid è aumentata la distanza politica. Sono stata continuamente attaccata anche da questo assessore regionale alla sanità completamente assente sul territorio ma in realtà un assessore pascolante. Si è visto con quale superficialità poi è stata affrontata questa emergenza e lo si vede all'interno degli ospedali, si è creato il caos più totale. Alla domanda che riguarda un possibile ingresso nel partito di Renzi la Scoccia nega ma non nasconde la vicinanza al deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro. Ad oggi non c'è nessun avvicinamento, non nego di avere ottimi rapporti con l'onorevole Camillo D'Alessandro così come tanti altri movimenti. Noi invece stiamo facendo, perché sapete tutti che io mi sono candidata da indipendente all'interno delle liste dell'Udc, noi siamo un movimento civico territoriale e al nostro interno tra i vari amministratori e sindaci di cui ne fanno parte abbiamo aperto un confronto sano proprio per vedere qual è l'evoluzione dello scenario politico.